SANTO DIO Questo ragazzo mi dà proprio da pensare Non si sente mai parlare, non si sa che cosa fa Forse è un poco esaurito, forse è stanco di studiare Forse io non l'ho capito e non so cosa fare per lui Volgi In casa mia Anche stasera stanno parlando solo di me Io non sentirò E nella mia stanza mi chiuderò Mamma Scusami tanto Se tra i tuoi figli io sono il solo da giustificare Mamma Che posso fare Se nel mio corpo Forza non c'è Ciao Ciao Sì Sì Grazie a tutti.